Siete pronti? Oggi faremo un unboxing importante Non è il solito unboxing di tastiere, mouse, videocamere, no Oggi, signori e signori, abbiamo l'unboxing DELLA RUSPA La ruspa di Salvini Ce l'abbiamo, cazzo L'ho comprata, eccolo lì Guarda già la gente a spammare Guarda, fiera questa ruspa Guardate quanto è fiera Non è una ruspa normale Questo è il rumore che fa quando passa sotto i campioni Poi c'è anche la musica, sentite Radio ruspa Yes Abbiamo, che cos'è? Qua c'è un segno che non conosco Questa è una pokeball La monnezza, ovviamente, riferimenti puramente casuali Il tuo artikel te l'ho scelto io Io non mi sento proprio tirato in causa da napoletano Guarda quando le due No, no, no Anzi, tu devi sapere Nei miei video Tutte le volte che succede qualcosa Tipo qualcuno che ruba qualcosa Ste cose qua C'è Andre, il mio editor Mette sempre La tarantella La monnezza San Gennaro Tutti riferimenti a Napoli Sì che il pubblico La gente che mi segue I miei video sono tempestati I commenti dei napoletani Incazzati con me Non lo capiscono Che il mio editor Da napoletano Si diverte a prendere per il culo I suoi concittadini È un po' come quando fai insulti sui neri Però se sei nero va bene E la stessa cosa è pure per Napoli Se sei napoletano va bene C'è stato uno che mi ha scritto Sotto un video Che non ho capito Nemmeno cosa c'entrasse Per creare una compilation Che appunto mi ha fatto Andre E siamo a quattro Una compilation Di una serie così E c'era un riferimento a Napoli E lui Non puoi parlare di Napoli Se non ci sei nato Che cazzo è la mafia? Che cosa vuol dire? La camorra a livello estremo Un maron Tutti a casa Tutti a casa A bellino beppe Porca puttana Oddio Oh mio dio Oh mio dio Gesù Cristo La madonna in croce proprio Mamma mia Induscia a lavarmi le membra Con la tua voce in sottofondo Non è che alzeresti leggermente la voce Vai tranquillo Intanto è mid-lay Parte la ultima di Luxorato E fa tempo Il caballero ti segue Ambo tutto scupe No No vabbè No È impossibile Ma come è possibile? Scusami Ma sono in silver Perché c'è Perché io C'abbiamo Vincenzo contro Ma che cazzo Questo mi ha fatto dire Vincenzo a che livello sta al momento Ma è una platino vincenzo Ma che cazzo Ma è più Ok Io rispetto il tuo netto Oddio Cazzo facendo Literalmente I can't help you Oh mio dio Oh mio dio No 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 What do you do? Non vale così Troppa gente Pezzi di merda Uno è andato Let's go Con chi pensate di avere a che fare qua Qua servono un po' più resistenza Che la sottovaluta Non sa che le resistenze Mauri Mauri no 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 Mauri no Cosa ho visto? Cosa ho visto? È entrato nella Q di Zilian Mauri bustato Mauri bustato Non c'è nessun altro Che litiga con i napoletani Ma che lingua strano la conosco Ah Din di din di din di din Din di din di Ignorante Zitto terrone Zitto Ma è il gamer 06 È quello delle canzoni Di minecraft ragazzi È lui È lui È il king della zona È lui È lui È il king della zona È tornato Zitto Non l'hai mai visto tipo Bregnano quando fece la spiegazione Del come i napoletani Poi stortano No l'ho visto E noi non c'abbiamo Le vocali alla fine Le tendiamo a pe Tipo a Furchetto Curtil Cioè non c'è la vocale finale Talmente che non le usiamo Che poi quando le dobbiamo Sare andiamo in difficoltà E mo quale va Ah E allora vai a randomico Mo ci buttano E E allora si storpiano le parole Clippa Che adesso Se non parla di Napoli Se non ci sei nato Lui c'è nato A Napoli Vai Metti la clip adesso Vediamo mo Cosa dice la gente Nei commenti Ve la prendete con un vostro simile Eh Cosa fate Dai non mi venite a dire Piero che non parla di Napoli Se non sei napoletano Eh Che non parla di Napoli Che non parla di Napoli Che non parla di Napoli